Sono Stefano Corradini della sezione ONT di Roma. Io sono Tullio Ricci della sezione Roma 1 dell'IMGV di Roma. In questo momento ci troviamo alla Montagnola a circa 2006 sull'Etna e siamo qui per fare delle misure di SO2 con due strumenti particolari. Questa è una camera termica che è stata sviluppata nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Vista. Ha due filtri nel fenomeno termico che vengono utilizzati per la stima della massa e del flusso di SO2. Invece questa è una telecamera sperimentale nell'ultravioletto che serve sempre per la stima dell'SO2 che è stata sviluppata da Giancarlo Tamburello dell'IMGV di Bologna e un'altra persona che è un'altra persona che è un'altra persona che è un'altra persona che è un'altra persona. Grazie. 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 Grazie.